Musica Sono stati tre gli obiettivi che hanno guidato i primi due anni di amministrazione della giunta regionale di centro-sinistra guidata da Mario Oliverio e resi noti con l'intervento dello stesso governatore alla manifestazione Calabria in Corso che si è svolta nella sede della regione Calabria-Catanzaro nel pomeriggio di lunedì. Oliverio ha sottolineato che il primo impegno è stato quello di recuperare la credibilità della Calabria in ambito europeo e nazionale, quindi acquisire i fondi per lo sviluppo ed infine riformare la macchina burocratica della regione. In questo contesto, partendo dalle difficoltà che Oliverio ha sostenuto di aver ereditato con il PIL calabrese in calo di 14 punti in sette anni fino al 2014, il Presidente ha sottolineato che dobbiamo ancora guadagnare credibilità quotidianamente, ricordando però il dato positivo dello stesso PIL nel 2015, con un aumento dell'1,1%. La manifestazione è stata introdotta da sei testimonianze legate al mondo dell'imprenditoria, della pubblica amministrazione e dell'innovazione. Mi preme evidenziare che è un fatto inedito nella storia della Calabria e io credo che sia infatti un fatto necessario e democratico presentare agli elettori, non alla fine del mandato, ma in corso d'opera, l'attività svolta rispetto agli impegni, agli obiettivi programmatici sulla base dei quali è stato chiesto un consenso. E' chiaro che noi abbiamo gettato le basi con la programmazione che abbiamo definito di circa 9 miliardi di euro che oggi possono entrare nel sistema economico e sociale della nostra regione, con il riordino della macchina regionale, con l'apertura di un confronto positivo con il governo del Paese, abbiamo gettato le basi perché la Calabria possa mettere la marcia giusta per costruire una prospettiva di crescita, opportunità di lavoro. Questa programmazione è già entrata nella fase operativa. Noi non abbiamo fatto annunci, abbiamo elencato fatti che abbiamo prodotto e abbiamo anche ricordato che proprio in queste settimane, in questi mesi sta entrando nel vivo la programmazione attraverso la pubblicazione di bandi, attraverso l'opportunità che si dà alle imprese, ai comuni, ai giovani di poter utilizzare queste risorse. Quindi siamo nel gorgo di un'esperienza di governo che appunto oggi incomincia a produrre ricadute e risultati concreti nella società e nei territori calabri. Franco Iacucci, sindaco di Aiello Calabro, è il nuovo presidente della provincia di Cosenza. Unico candidato alla carica è stato eletto nel corso delle consultazioni di secondo livello che hanno visto recarsi alle urne 1.603 amministratori sui 1.771 aventi diritto, pari al 90,51% di affluenza. Le liste a sostegno di Iacucci, i dati non sono ancora ufficiali, avrebbero conquistato 14 scranni sui 16 in palio. 7 seggi vanno al PD, 3 a Insieme per la provincia, 1 a Italia del Meridione che fa capo al consigliere regionale orlandino greco, 1 a Il Coraggio di Cambiare l'Italia, il cui leader è il consigliere regionale della centrodestra Giuseppe Graziano, 2 a Nuova Provincia che fa riferimento al nuovo centrodestra rappresentato in Calabria dalla sottosegretaria allo sviluppo economico Antonio Gentile e dal fratello Pino, vicepresidente del consiglio regionale. Per l'opposizione due seggi vanno a Cosenza Azzurra che unisce Forza Italia, Fratelli d'Italia e il movimento del consigliere regionale Fausto Orso Marso. I primi passi di presidente saranno quelli, io sono un amministratore, saranno quelli di prendere coscienza fino in fondo della situazione della provincia, iniziare a lavorare per come sono abituato con grande impegno, con grande rispetto nei confronti di tutti ma con grande rigore, con grande sovietà perché dal giro che mi sono fatto in queste settimane mi sono reso conto che i problemi sono tanti e quindi bisogna ritornare ad attrezzare questa provincia per affrontarli i problemi. Per me il primo punto è che il PD deve rimettere al centro la questione sociale, abbiamo spesso raccontato un paese fuori dalla crisi quando invece larga parte dei cittadini si sentono con due piedi dentro la crisi, per me questo è il punto fondamentale, questa è l'iniziativa che il PD deve provare a svolgere con tutte le proprie energie e siccome in questo istante siamo al governo del paese dobbiamo provare a rispondere dal governo del paese a questa domanda, aggiungo che ogni giorno qualcuno mi avvicina e mi chiede quanto dura il governo, la domanda è sbagliata e inutile, la domanda è giusta e cosa fa il governo e qui c'è la risposta che dicevo, se rimetti al centro la questione sociale è giusto che questo governo provi ad andare avanti e fare le cose che il paese si aspetta. Mentre la fusione tra i comuni di Corigliano e Rossano potrebbe presto diventare realtà c'è chi ritorna su quello che da moltissimo tempo rappresenta un sogno, il sindaco di Gosenza Mario Chiuto ed il primo cittadino di rende Marcello Manna nel corso di un convegno hanno infatti discusso della tanto agognata fusione tra i loro due comuni e mentre in pubblico hanno celebrato un rito di gemellaggio fra i due territori, nei fatti peraltro già reale e concreto da tempo il primo cittadino di Cosenza ha parlato di un'occasione propizia per rilanciare ogni sforzo possibile e formalizzare da un punto di vista istituzionale e amministrativo l'area urbana Cosenza rende. Il sogno di Occhiuto è chiaro ormai da tempo e potrebbe realizzarsi nella creazione di un'unica città tra Cosenza e Rende insieme con gli altri centri urbani contigui interessati, un risultato che secondo Occhiuto porterà enormi benefici sia sociali che urbanistici per l'intera comunità. Nascerebbe infatti una delle prime 15 città italiane fra le più importanti del sud Italia con notevoli vantaggi come ad esempio l'accesso a risorse finanziarie aggiuntive per realizzare investimenti e gestire i servizi in modo più efficiente, oltre alla creazione di un centro culturale di scala superiore grazie alla presenza dell'Università della Calabria. Insomma una visione futuristica quella di Mario Occhiuto che si scontra con la realtà dei fatti. Se la situazione non dovesse sbloccarsi ed in considerazione di quanto sta accadendo tra Corigliano e Rossano, il rischio concreto è che nella provincia cosentina l'area urbana di Cosenza e Rende passi in secondo piano. Un uomo di 50 anni è deceduto nell'ospedale di Vibo Valencia a causa di un'infezione da a Meningo Cocco. L'uomo Giuseppe Iannazzo, titolare di un ristorante alla Mezzia Terme, era stato ricoverato 15 giorni fa nel reparto di rianimazione dell'ospedale di La Mezzia Terme ed era stato successivamente trasferito nell'unità di malattie infettive di Vibo. Nonostante le terapie a cui è stato sottoposto, Iannazzo è deceduto nella mattinata di venerdì scorso ma la notizia si è appresa soltanto oggi. Al momento non c'è alcun allarme, il numero di casi di infezione da Meningo Cocco registrati nella provincia di Catanzaro ed in generale in tutta la Calabria rientra assolutamente nella media annuale nazionale. Lo ha detto il direttore generale dell'Aspi di Catanzaro, Giuseppe Perri. Perri ha assicurato che subito dopo che è stata riscontrata la presenza del virus è stata attivata la profilassa antibiotica per tutte le persone venute a contatto con il paziente, compresi i medici. Il DG ha anche sottolineato che per venire incontro alle richieste dei cittadini, il centro vaccini dell'Aspi di Catanzaro effettua ormai da diversi giorni due sedute straordinarie di pomeriggio, il martedì e il giovedì. Una protesta il prossimo 27 aprile a Roma per chiedere verità in merito alla chiusura del Tribunale di Rossano ed evidenziare i numerosi e gravi disagi derivanti dall'accorpamento al Tribunale di Castrovillari. Il GAV, Gruppo d'Azione per la Verità, è nato con l'obiettivo di sapere, ancora oggi a distanza di cinque anni, le ragioni e il criterio di valutazione per cui è stato chiuso il Palazzo di Giustizia. Si ipotizzano gravi episodi di corruttela, affermano i membri del gruppo, verso cui ancora oggi la magistratura, organo preposto, non fornisce risposte. I manifestanti e tutti gli abitanti dell'intera fascia ionica cosentina chiederanno davanti al Quirinale la riapertura del Tribunale in modo tale da continuare a garantire giustizia e sicurezza nella Sibaritide. Devo rammaricarmi del fatto che in questi anni ci siamo trovati di fronte a un muro di gomma. Tante rassicurazioni, tante pacche sulle spalle, ma poi nulla di concreto. E parlo di rassicurazioni verbali di pacche sulle spalle nella migliore delle ipotesi. Per il resto omissioni e silenzi che sono veramente deblorevoli per chi rappresenta la democrazia, per chi rappresenta le istituzioni. L'amministrazione comunale di Cosenza ha promosso tre giornate di riflessione per non dimenticare e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla Shoah, la persecuzione dei cittadini ebrei e sulle altre persecuzioni razziali come quella subita dal popolo armeno. Dopo la prima giornata che ha ospitato la conversazione sul tema la musica nella cultura yiddish, il programma ha proposto una serie di proiezioni cinematografiche a tema, una vera e propria maratona di film dedicati alle persecuzioni razziali. L'amministrazione comunale ha infine proposto un'edizione speciale di Cinque Sensi di Marcia, la collaudata iniziativa promossa dall'assessorato al turismo e marketing territoriale guidato da Rosaria e Sucurro. L'itinerario ha condotto i numerosi partecipanti alla scoperta dei segni materiali e immateriali che la comunità ebraica ha lasciato nella città di Cosenza. A partire dalla confluenza dei fiumi si è articolato nel centro storico e, percorrendo lungocrati, ha raggiunto via Cafarone, il cui toponimo, secondo alcune tesi, riporterebbe alla memoria Cafarnao, antica città della Galilea, centro spirituale dell'evangelizzazione di Gesù. Dopo una sosta a Palazzo Gervasi, che potrebbe, secondo alcune ipotesi, svelare nuove indicazioni riguardo la localizzazione del quartiere ebraico, l'itinerario ha proseguito alla volta di salita liceo, raggiungendo i luoghi testimoni dell'operosità della comunità ebraica, dedita alla produzione e diffusione della seta. Tappa successiva, il Monastero delle Vergini, realizzato, secondo alcune fonti storiche, sul sito dell'antica sinagoga. Dopo la visita alla chiesa, una breve sosta ha consentito ai partecipanti di ammirare alcuni dei pannelli del Museo Storico all'Aperto, posti nelle vicinanze della chiesa di San Francesco d'Assisi, che mostrano l'importante espansione artigianale della seta nel periodo svevo. Il tour si è concluso in Piazza Duomo per una visita in cattedrale, riconosciuta patrimonio testimone di cultura di pace dall'UNESCO. Due comuni che porteranno a far sì che si abbia la terza città della Calabria, quindi un fatto anche storico dal punto di vista nazionale, perché una fusione così grossa finora non c'è stata. Ma è storica, al di là dal punto di vista numerico, è storica perché può dare veramente un impulso diverso a questo territorio. Questo territorio è periferica, è periferia della Calabria, è periferia della Calabria nonostante abbia ricchezze importanti come l'agricoltura, come la cultura, come i beni monumentali, naturalistici che abbiamo in questo territorio. Però è un territorio periferico per quanto riguarda i servizi, per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda la mobilità, per quanto riguarda il diritto alla sanità, per quanto riguarda l'occupazione. Allora forse questa possibilità ci dà l'impulso per avere un futuro migliore, per lasciare ai nostri figli una terra migliore. Una città che si chiamerà Corigliano-Rossane, è stato sancito ieri dal Consiglio regionale, si sottoperà questo quesito se si è favorevole al referendum ai cittadini. Ora sono loro a decidere, ma bisogna fare in modo di spiegare ai cittadini, sia di Corigliano e sia di Rossano, l'importanza di questa fusione. Ricattato da due donne con cui aveva passato una notte di sesso, sarebbe vittima di una psicologa 37enne di Castellammare di Stabbia, ma residente a Lucca, e di una 25enne di Castrovillari. Un noto imprenditore piacentino che, spaventato, si è rivolto alla polizia per la denuncia a settembre 2016. Le due erano andate a Piacenza per un servizio fotografico, se è la sera avevano cenato in un ristorante in provincia. Lì avevano conosciuto l'uomo, avevano parlato a lungo e terminato la serata nella sua auto, facendo sesso a tre. Pochi giorni dopo, la telefonata. Abbiamo il video del rapporto, dacci 20 mila euro, altrimenti lo diffondiamo in rete. L'imprenditore si è rivolto alla mobile che ha avviato indagini coordinate dalla PM Emilio Pisante. Grazie anche ad intercettazioni, gli agenti di Salvatore Blasco sono giunti alle due. Il GIP Giuseppe Bersani ha emesso obbligo di firma per una e arresti domiciliari per l'altra per tentata estorsione. La 25enne di Castrovilla era stata paziente dell'altra e poi sono diventate amiche. Un dipendente delle poste in servizio in un centro secondario di distribuzione della Locride è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri del gruppo di Locri per sottrazione e soppressione di corrispondenza. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre buttava della corrispondenza, tra cui anche una bolletta Enel, in un cassonetto della spazzatura. Le indagini erano state avviate mesi fa, dopo la denuncia di un cittadino che lamentava il mancato e irregolare recapito della posta. In particolare la vittima aveva raccontato ai militari che dopo essersi abbonato a una nota rivista informatica, aveva sollevato un contenzioso con la casa editrice, poiché non gli erano stati recapitati diversi numeri del periodico. È stato così che ha appreso dall'editore che il giornale veniva spedito regolarmente a mezzo poste. Questo, unito al fatto che anche i suoi vicini si lamentavano per il mancato recapito della corrispondenza, lo ha insospettito, inducendolo a rivolgersi ai carabinieri. Il maestro orafo Michele Affidato ha presentato ufficialmente alla stampa presso il suo showroom a Crotone i premi realizzati per il prossimo 67esimo Festival della Canzone Italiana. Diversi degli eventi per i quali Affidato è stato incaricato di realizzare i premi. Tra i tanti spicca il premio destinato al vincitore della serata cover del Festival, quella di giovedì sera 9 febbraio, che da diverse edizioni è dedicata alla reinterpretazione, da parte dei big in gara, dei più grandi successi della musica nazionale ed internazionale. Quest'anno in particolare spicca il premio che abbiamo realizzato per la serata cover, la serata di giovedì sera dove tutti i big interpreteranno alcuni dei brani più famosi della musica italiana. Il premio che verrà più televotato da casa e dal televoto della sala stampa vincerà questa chiave di violino che è realizzato interamente a mano, dove ho raffigurato in questa chiave anche un fiore in argento con un cupolino in oro 18 carati tempestato con un pavè di diamanti. Se il culmine dell'avventura sanremese dell'orafo crotonese sarà senz'altro il momento in cui l'artista che vincerà la serata cover alzerà la sua chiave di violino sul palco dell'Ariston, la settimana sarà ricca di impegni e si aprirà con l'inaugurazione di Casa Sanremo, evento che Affidato condividerà con la madrina di quest'anno Elisabetta Gregoraci con il patron Vincenzo Russo Lillo, autorità e diversi artisti. Quest'anno Affidato sarà presente a Sanremo non soltanto sotto un profilo artistico ma anche sotto un profilo rivolto al sociale in quanto nella settimana del festival nella qualità di testimoni all'Unicef sarà presente al fianco del presidente nazionale Unicef Giacomo Guerrera. Io ho avuto il piacere e l'onore di essere stato nominato a testimoni all'Unicef alcuni mesi fa e quest'anno insieme al presidente nazionale Giacomo Guerrera saremo presenti a Casa Sanremo dove ci sarà un convegno che tratterà proprio il tema dei migranti, per cui ecco questa nostra partecipazione, questo non può che, come dicevo prima, farci piacere poter rappresentare anche quella parte nel sociale che ce n'è tanto bisogno. In attesa del posticipo di questa sera che vedrà di fronte Catanzaro e Lecce la ventitresima giornata del girone C del campionato di Lega Pro ha già visto in campo le altre tre squadre calabresi in un weekend che, come accade spesso, ha regalato gioie e dolori. Unica calabrese a portare a casa i tre punti il Cosenza che fuori casa ha battuto il Melfi 2-0. Seconda vittoria in tre gare per De Angelis con i rosso-blu che rimangono ancorati al quinto posto in classifica. Dopo una prima frazione di gara a vara di emozioni il match si sblocca all'ottantesimo quando Baclet su cross di Statella approfitta della dormita della difesa di casa e batte in uscita il portiere. Il Cosenza non si ferme al novantesimo, trova anche il gol del 2-0 ancora con Baclet che stavolta realizza a porta vuota. Sconfitta deludente invece per la regina battuta 3-1 dalla Catania al termine di un match in cui la squadra di Zeman avrebbe meritato di più in virtù delle tante occasioni da gol create ma non sfruttate a dovere. Una regina ingenua che passa in svantaggio dopo 4 minuti con il Catania che realizza il gol del 1-0 con Marchese. Partita subito in salita per gli Amaranto che subiscono anche il 2-0 alla mezz'ora dell'ex Catanzaro Tavares. La regina non si arrende, crea giochi e occasioni ma senza successo fino all'ottantatresimo quando De Francesco realizza il gol del 2-1 e riaccende le speranze subito smorzate però dal gol catanese del 3-1 siglato da Russotto. Chi proprio non riesce a uscire dalla crisi alla Vibonesia che contro il Matera incassa la settima sconfitta consecutiva un match proibitivo per la squadra di Campilongo, un classico testa-coda che però non regala sorprese, infatti il Matera a tenere il pallino del gioco per ampi tratti del match sbloccato alla 47esimo grazie al gol realizzato da Ingrosso che vale l'1-0 finale. Grazie a tutti!